Con il Presidente della Camera di Commercio Italo-Russa, Rosario Alessandrello, si è da poco terminata la presentazione dell'Expo Center. Parliamo un po' di questa manifestazione. Che cos'è e qual è la sua utilità anche per le imprese che intendono operare in Russia? L'Expo Center è il centro fieristico più importante della Russia ed è un centro fieristico dello Stato, del Governo. Ci sono poi altri centri fieristici ma sono in mano ai privati. Evidentemente questo è quello più importante ed è quello che fa le manifestazioni più interessanti. Praticamente oggi ha detto che gli operatori che operano il loro centro fieristico superano il milione e mezzo. Quindi è evidente che è uno dei centri fieristici più grandi al mondo. Parliamo anche un po' di alcune tematiche che sono state sviscerate durante l'incontro odierno. Si è molto parlato anche della possibilità che attraverso le società di diritto russo possono esserci per le nostre imprese. Non ci sono dubbi che oggi praticamente sia stato affrontato da un lato le possibilità, l'attrattività del mercato russo con tutti i suoi coefficienti economici e dall'altra parte la possibilità di avere un'esposizione del proprio interesse con contatti fisici sugli operatori economici russi. Grazie.